Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo di quelli in sconto. In questo video ricchissimo vi propongo una ricerca che abbiamo appena svolto su Twitch dove siamo andati a caccia di migliori sconti su Nintendo Switch. Infatti è appena partita la campagna dei saldi estivi e come al solito navigare l'eShop è un vero e proprio incubo ma tramite l'aiuto della chat e l'aiuto del potentissimo Deku Deals siamo riusciti a trovare delle chicchette in offerta, niente male. In generale se siete dei gamer che danno priorità assoluta agli acquisti digitali vi ricordo che tramite Instant Gaming potete trovare migliaia di titoli in offerta ad ottimi prezzi non solo sul Nintendo Switch ma su tutte quante le piattaforme quindi anche Xbox, Playstation e PC e inoltre c'è attivo un giveaway mensile dove potete vincere un titolo gratis semplicemente partecipando con un account attivo. Tutto totalmente gratuito e trovate il link in descrizione. Bene, io ho detto tutto, vi lascio a questo ricaricamento poraccio al 100%, voi mi raccomando supportatemi, sopportatemi ma soprattutto datemi i soldi. Iniziamo! Allora innanzitutto dai di rito una brevissima introduzione a Deku Deals per chi per qualche stranissimo caso non avesse mai visto un video di questa popolarissima serie questo qua è un sito che ci torna utile per scandagliare nel migliore dei modi possibili gli e-shop che altrimenti è un inferno da navigare. Ti permette sostanzialmente di sapere quali sono i giochi in sconto che veramente vale la pena acquistare perché te li organizza in modo molto chiaro e soprattutto ti dà lo storico dei prezzi. Adesso noi per esempio possiamo selezionare soltanto i giochi per Nintendo Switch che ci interessano per questo video e andarci a vedere quali sono gli hottest deals ovvero gli affari del momento e filtriamo poi non andiamo a vedere quali sono le copie fisiche ma soltanto le versioni digitali dei giochi. Quindi ora abbiamo gli affari del momento per Switch solo in versione digitale ma mettiamo un altro filtro che è quello dei New Lowest Price ovvero i prezzi più bassi di sempre così siamo sicuri che andremo a vedere soltanto le offerte più convenienti a un prezzo che non si è mai visto prima così evitiamo pure di ripeterci nel caso vi avessi già segnalato uno sconto del genere in un video precedente. Vi faccio vedere un attimo una pagina campione. Insomma è abbastanza utile perché vedete c'è tutto lo storico dei prezzi e qui possiamo vedere che effettivamente questo è il prezzo più basso di sempre a 2,99 praticamente regalato però è pure vero che le altre volte insomma veniva venduta a 5,99 o anche di meno l'ultima volta 4,49 quindi è un titolo che molto spesso va in sconto e poi abbiamo nel caso uno non conoscesse il gioco abbiamo anche una tabella riassuntiva che ci dà tutte le informazioni più importanti per farci un'idea volante su che tipo di gioco andiamo eventualmente a comprare, quanto dura, come è stato accolto dalla critica, quali sono le lingue disponibili all'interno del software e anche su quali piattaforme è disponibile. Quindi insomma diciamo che è una banca dati che rispetta l'eShop è proprio su un altro livello. Diciamo che l'eShop è poraccio, dai good deals, decisamente no. Partiamo subito con Civilization 6, è stato appena annunciato uno nuovo tra l'altro in uno degli showcase estivi, prezzo bassissimo abbiamo visto però va molto spesso in sconto. So che il porting è abbastanza decente su Nintendo Switch, certo probabilmente non è proprio il modo più giusto per giocare tattico del genere, è uno strategico del genere però insomma perché no? Un gioco comunque che vi terrà impegnati abbastanza anche se andate dritti sulla main story, vi deve piacere il genere però è importantissimo e quindi insomma per 3€ un acquisto che si può prendere in considerazione anche se insomma a quanto pare ve lo tirano dietro molto spesso. L'importante è che non lo comprate tra uno sconto e l'altro, a 30€ una follia praticamente. C'è l'italiano tra l'altro quindi non avete scuse. Immortals Fenyx Rising, grandissimo Zelda like. Certo io a questo punto vi direi quasi quasi prendete la versione fisica ma adesso non è in sconto anche se poi la fisica molto spesso te la danno ormai te la danno soltanto con il codice di download dentro quindi non so quanto vale la pena. Su Switch le performance sono un po' quelle che sono, leggi bene, fa abbastanza schifo su Switch però alla fine è giocabile, è godibile se avete solo questa piattaforma e siete in astinenza da Breath of the Wild sostanzialmente perché un po' il gioco è quello però ha anche una sua individualità molto marcata. Immortals Fenyx Rising è un consiglio sempre ben accetto. La citavamo prima, questa tripletta, in realtà per ora se ne vedono soltanto due però li diciamo insieme ma perché poi li consiglio sempre sempre sempre. Sia Death's Door che Tunic sono due grandissimi action-adventure, Death's Door un po' più quadrato, un po' più mainstream con anche degli sprazzi, degli spruzzi di Soulslike. Grandissimo stile, grandissimo gameplay, a me è piaciuto molto, c'è l'italiano quindi vabbè insomma non è che vi perdete chissà quale trama intricata però insomma dai un minimo, non mi farei fermare da questa mancanza. Lo stesso vale per Tunic che però ha l'italiano ma il parlato è praticamente, anzi lo scritto è praticamente nullo. Questo è un gioco che non va praticamente mai in sconto, era successo solo un'altra volta e questo è il prezzo più basso di sempre, 13,99 è un must buy proprio per quanto riguarda. Però prendete sempre in tutti e due i casi in considerazione l'idea magari di andare di versioni fisica. Death's Door ha una bella deluxe edition e Tunic invece ha solo un'edizione disponibile, quella retail, che però è una bomba. Ho fatto un unboxing in uno shorts ma anche in un video mi sembra, era una delle edizioni fisiche più belle ma è stesso Switch, non costa niente. Considerato anche proprio il gameplay del titolo, secondo me ha senso prendersi edizioni fisiche. Va bene fare poracci però a un certo punto quei 10-15 euro in più io ce li spenderei. Mentre se per esempio uno vuole dei GDR a turni un po' più tradizionali ma irriverenti allo stesso momento, abbiamo la doppietta di South Park The Stick of Fruit e South Park The Fractured But Whole. Giochi di parole che chi non sa l'inglese magari non coglierà proprio immediatamente, però sono due titoli molto divertenti. Io il secondo non l'ho mai giocato, il primo l'ho giocato tipo 300.000 anni fa. RPG classici però poi caratterizzati dall'ironia totalmente fuori di testa e volgarissima di South Park. Bello sconto, bravo, complimenti, si fa così. C'è l'italiano, quindi non mi ricordo se addirittura è doppiato in italiano, però insomma comunque quantomeno le scritte ce le avete. Sono RPG di quelli che comunque non vi impegnano 100 ore, come può essere un persona ma più che altro ve la cavate con una decina, 15 ore. Quindi potrebbe essere un bel gioco cazzone con cui passare l'estate. Magari poi se vi piace il primo vi scoppiate pure il secondo. 7,49 per il primo, 8,99 per il secondo, direi che ci sta abbastanza come prezzo. Sonic Frontiers a 20,39 io non lo prenderei mai perché a sto punto te lo compri fisico, ma a sto punto veramente Sonic Frontiers giocatevelo su PlayStation perché su Switch con tutto il bene del mondo è veramente inguardabile. Non sto bocciando il titolo in assoluto, sto dicendo magari non giocatelo su Switch, come lo stesso discorso vale anche per Hogwarts Legacy. 29,99 comunque è un prezzo importante. Uno potrebbe pensare di puntare l'edizione fisica oppure potrebbe pensare di puntare una qualsiasi altra edizione su una qualsiasi altra console, visto che probabilmente andate a spendere molto di meno e avete un gioco che non sembra uscito dalla PlayStation 1. Grandissimo beat'em up a scorrimento, Streets of Rage 4, non so com'è la conversione per Nintendo Switch perché io lo giocai su Game Pass. Attenzione, il titolo va in sconto molto spesso. Forse non è il beat'em up a scorrimento che prenderei per primo, anche perché non sono poi così affezionato alla saga di Streets of Rage. Però c'è da dire che insomma mi ci sono divertito molto, molto figo, molto divertente, bello stile. Però non lo so, forse punterei prima un gioco delle tartarughe ninja o uno Scott Pilgrim, qualcosa di un po' più esotico. E infatti abbiamo anche la Cowabunga Collection che però non è Shredder's Revenge ma è la collection di tutti quanti i Turtles usciti negli anni che furono. Tra l'altro una collection con 10.000 giochi ma molto spesso sono tipo versioni differenti dello stesso titolo. Quindi insomma in realtà il numero è un po' gonfiato artificialmente. Anche di questo esiste un'edizione fisica che forse vale la pena prendere per quanto poi le edizioni fisiche su Switch in particolare lasciano un po' il tempo che trovano. In una scala da 0 a Cadillac and Dinosaurers come è messo? Samu, Cadillac and Dinosaurers è il top inarrivabile. Streets of Rage 4 sta lì nel mezzo. Non è una sola, non è una ciofeca, non è un brutto titolo, non è neanche mediocre, è un bel gioco. Però Cadillac and Dinosaurers ma come fai a batterle? Sono attratto, tra l'altro scusate, da questo Unsighted. Innanzitutto non è l'italiano quindi metà di voi già se ne vanno. Non mi ricordo se questo era un metroidvania molto figo. Tra l'altro media metacritic 88. Andiamoci a vedere un trailer di Unsighted. Ah, c'è chi li ricorda addirittura Hyper Light Drifter. Oh, mappa da metroidvania al 100%, ok perfetto, perfetto. Buona a sapersi. Ecco, l'unico deterrente per acquistare questo giochillo che sembra... Madonna, ma è una figata. È bellissimo. Ricorda tantissimo Hyper Light Drifter comunque. Vediamo solo una cosa. Unsighted c'è sul Game Pass? No, al momento no. C'è pure la coop. Dai, figo, figo. Questo qua lo teniamo d'occhio. Potrebbe essere un acquisto interessante da fare. 7,99 sotto i 10 euro. Molto, molto interessante. Segnatevelo. Allora, andiamo avanti. Wild at Earth me ne ho parlato molto spesso. Tra l'altro è bello perché anche Wild at Earth era Heart. Heart. Se no per rima non si dice Heart, non Heart. Anche questo è pubblicato da Humble Games. Top. Quindi abbiamo sia Unsighted che Wild at Heart. Entrambi dello stesso publisher. Uno accanto all'altro. Ti ho polpettata impazzita. Interessante, interessante. È una sorta di Pikmin un po' più artistico. Un po' più occidentale, meno giappo. In realtà è un po' più un puzzle game che un tattico. Carino. L'ho giocato sul Game Pass. Non tantissimo, non l'ho finito. Però merita. 9,99 forse è ancora un po' tanto. Soprattutto se sta ancora sul pass. Però è la prima volta che scende sotto i 10 euro. Allora, Return to Monkey Island. 12,49. Top. Anche perché mi sembra che l'unica edizione fisica sia quella di Limited Run Games. Quindi prezzi folli. 12,49 per il ritorno di Ron Gilbert su questa storica serie. Ci sta la grandissima. Prima volta che scende sotto i 15, sotto i 14,99. Non avete più scuse. Sul serio. Grandissima Devolver. Che ancora una volta tira fuori un grandissimo trick dal cilindro. Il bundle di Little Nightmares 1 e 2. Ci sta la grandissima. 12,49. Esiste una versione fisica. Però, insomma, penso costicchi qualcosina in più. La cosa, tra l'altro, è che uscirà prima o poi il terzo capitolo. È già stato annunciato. Però l'ho scoperto solo recentemente. Non sarà fatto da Tarsier Studios. Che sono quelli che si sono occupati dei primi due capitoli. Ma, se non sbaglio, tipo da Super Massive Games. Quelli che fanno gli horror tipo Until Dawn, eccetera, eccetera. Se non sbaglio. Però comunque c'è uno studio che non c'entrava niente. Infatti ci sono rimasto un po' male. Scommessa del giorno. Black Future 88. 1,99 ragazzi. 1,99. Chi offre di meno? Vabbè, c'è da dire che te lo tirano dietro in continuazione. Ed è un action-adventure multiplayer. Synthpunk roguelike 2D action shooter. Sembra un giochillo stupido, però bello fomentante. Vediamo. Vabbè, classico roguelike. Che magari ci perdete. Di quelli che, appunto, hanno recensioni abbastanza medie, nella norma. Però poi se trovate il gioco che si incastra perfettamente con i vostri gusti, è la fine. E magari ci passate sopra dalle 30 alle 100 ore. Fino a quando non vi fermate e dite, ma io che cazzo sto facendo? Ma perché lo sto facendo? Se non avete in questo periodo il vomito dei roguelike, perché poi va a periodi. Perché a un certo punto, se ne giochi più di uno in contemporanea, a un certo punto c'è proprio la nausea. Questo con questo stile anni 88 potrebbe essere molto interessante. Sentite, ma questo Lost in Play, uno, che minchia è? Due, non solo costa poco, ma risparmi pure tanto. E quindi è un ulteriore incentivo a informarsi. Un adventure puzzle, Lost in Play, ce l'ha l'italiano. Ce l'ha l'italiano, quindi se ci sono tante scritte non potete lamentarvi. È un adventure alla deponia, cioè è proprio un punto e clicca all style. Vi deve piacere il genere, ovviamente. Allora, Banner of the Maid, mi rifiuto di scoprire cosa sia solo per il titolo. Chitaria Fables ci sta nei furri, quindi lo evitiamo come la peste. Rogue Legacy 2, a proposito di roguelike che rischiano di succhiarti via la linfa vitale e il tempo a disposizione all'interno di una giornata, io sul primo non so perché, ci ho passato 30 ore. E mi sono fermato al boss finale della prima, diciamo, prima di battere per la prima volta del boss finale. Ho detto, vabbè, basta. Però so che il 2 è veramente una figata. Se l'ha beccato dei votoni, infatti in media dell'87. Gioco spesso in sconto, però è la prima volta che sta a meno di 15 euro. Siamo a 13,74 euro. Questo, ve lo dico io, a 9,99, must buy. Instant buy. Cocoon, giocatevelo assolutamente. Uno dei migliori giochi dello scorso anno, credo sì. Bellissimo puzzle game. Tra l'altro, dietro a questo gioco c'è uno dei due autori che hanno fatto prima Limbo e poi Inside. Si vede che dietro c'è una visione di game design, che non è che te la tira fuori il primo arrivato. Poi uno di quei giochi che ti dura il giusto. 5 ore, o finisci, sei felice e vai avanti. Top proprio. Cocoon, straconsigliato. Tutti i giochi sopra i 10 euro, vi ho detto, boh, non lo so, pensateci bene. Cocoon, subito proprio. Immediatamente. Baden Kytos 1.2 HD Remaster. Il prezzo inizia a essere interessante. Forse è ancora leggermente troppo, cioè se vogliamo fare proprio i poracci fino in fondo, ancora leggermente troppo. Io vi direi di comprarvi le edizioni fisica, sempre e comunque. Se non fosse che comunque, cioè, è proprio, mette una tristezza assurda perché è una di quelle confezioni che aprite e dentro non c'è neanche un artwork, c'è solo la cartuccia. Anzi che ce l'hanno messa. Però non è un gioco che va in sconto così spesso, non è un gioco che quando va in sconto va in sconto così tanto. Quindi il prezzo è interessante, ci avete due giochi al prezzo di uno, anzi al prezzo di mezzo, anche al prezzo di un quarto praticamente. E soprattutto due JRPG che vi dureranno un'infinità. Tra l'altro il secondo, che in realtà è il prequel, non era mai uscito in Europa, era rimasto esclusiva americana. Pure questo, se siete in cerca di un JRPG in cui proprio annullarvi completamente, questo potrebbe essere interessante. Però, scusate ma sono rimasto attratto da questo Blazing Chrome, perché c'è tutto quello che stuzzica la mia evidentissima virilità. Attenzione, sconto pazzesco, 5,77€, Metacredic del 79, allora io dico che è tipo un run and gun di quelli ignorantissimi in pixel art. Rilasciato nel 2019 c'è l'italiano, vediamo se l'art style ci convince. Una contrata proprio, stanno a fare la contrata. Ma allora io comunque c'ho qualche bug nel cervello, cioè mi basta vedere, pure senza audio. Vabbè, comunque è proprio un ripoff da Metal Slug. La grafica così, questo tipo di gameplay, vabbè, torno subito 12enne e lo voglio giocare immediatamente. Spettacolare. Questo mi sa che ci tocca, ci tocca farlo. Ecco, fosse stato sotto i 5€ pure pure. Da questi 77 centesimi non mi convincono appieno ragazzi. Segniamocelo in caso ci torniamo, però per ora pagina 2. EA Sports FC24 1499, dai! Cioè, veramente bisogna ripresentare questo gioco, non credo. Cos'è Atom RPG? Sto scoprendo troppe cose, troppa conoscenza in questo video. Che quindi sarà un video ricchissimo in tutto e per tutto. No, ok, la Media Critic del 65. È vero che non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina o un gioco dalla Media Metacritic, però questa brutta versione di Fallout, anche no. Poi, Death's Gambit. Afterlife è la nuova ed estesa edizione dell'originale, che era un RPG 2D hardcore action platform. Vabbè, praticamente hanno preso 18 generi diversi con 7 definizioni e mischiate tutte insieme. Abbiamo un po' un Castlevania. Cioè, per convincermi, invece di scrivere action hardcore RPG 2D action puzzle, scrivete Metroidvania e mi avete già convinto, no? Porca miseria. C'ho un po' di vibes alla Salt and Sanctuary, che questo significa che è troppo complesso, è troppo difficile. Beh, è praticamente Blasphemous. Ma perché non ho mai sentito parlare di questo gioco? Attenzione, è che questo Death's Gambit... Questo da mettere in wishlist, proprio. Jack Move. Attenzione, attenzione. Ti devo dire, ti devo dire, attenzione. Allora, 9,99, quindi siamo sotto i 10 euro. E già questa è una grandissima cosa. Roleplaning Adventure. Metacritic dell'87. Non c'è l'italiano. JRPG. Che mischia una storia cyberpunk, battaglie a turni e una bellissima pixel art moderna. Metacritic dell'87 è altissimo, ragazzi. Ma com'è possibile? Sembra un anime animata. Visuale tipo isometrica, un po' alla Suikoden per i combattimenti. Questo sembra veramente una figata, ragazzi. Ottimo il battle system. Vittoria ha un buon ritmo. Belle visual. Non c'è nessun momento morto. Non me lo ricordavo proprio questo Jack Move, ragazzi. Ecco, se oggi dovessi fare solo un acquisto, direi questo. Se non fosse che c'ho veramente troppi JRPG in canna. L'altra cosa interessante, vabbè, è Wrestle Quest. Però sapevo che il gioco aveva un po' deluso le aspettative. È un JRPG basato sul wrestling. Carino, ma molto grindoso, molto ripetitivo. Poi io non è che sono proprio appassionato dell'estetica, della lore da wrestler. Quindi, boh. 11,99 però al prezzo è interessante. C'è da dire questo. Lasciamoci con una rapida occhiata alla terza pagina. Nexmon, Ruinor, Proteus, Epic Game. Ah, Epic Game è interessante, 328. Solar Rush dagli stessi creatori di Hyper Light Drifter. Interessante. Tra l'altro gioco in 3D. Bomba, scontati i 3 Tomb Raider. Vi confermo che questo Switch girano da paura. Quindi potete pensare a recuperarli adesso in versione digitale. The Case of the Golden Idol. So che è un detective investigativo da paura. Però mi sa che dovete sapere bene l'inglese. Altrimenti non andate da nessuna parte. Se dovete sapere l'inglese. Ghost Song, grandissimo Metroidvania. Dogapon Kingdom Connect. Non è quello per Gamepad Advance. Che costa un fottio. Pentiment in sconto. Tanta roba. Dovete essere pazienti. Però avrete l'adattamento videoludico del nome della rosa. Cioè, il gioco è proprio quello. Volevo chiudere su una bella nota. Ma a parte che non conosco nessuno di questi giochi. Ma mi sembra che un po' l'appeal. In generale stia un po' calando. Già in quarta pagina. Quindi sarà difficile trovare qualcosa di proprio bello su cui chiudere. Quindi vi consiglio di prendere l'espansione di Mortal Kombat 11. A soli 3,99€. Ci sta. O Fashion Dreamer. Tanta roba. Il seguito di Eternity Boy. In sconto. Ancora più in sconto. Invece 11.24. 10.49. Chiudiamo su questo. No, ha beccato una Metacritic bassa. Il primo era un bellissimo Zelda-like ironico. Questo speravo avesse lasciato un po' di più il segno. Invece no. Ed è un po' più action. È un po' più spara spara. Rispetto al primo. Però insomma, quando c'è da evadere le tasse, noi youtubers siamo sempre in prima linea. E questo però c'è tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Spero che questo video in un modo o nell'altro vi sia tornato utile. Se avete altre segnalazioni da fare, vi aspetto qua nei commenti o magari nei DM su Instagram. E noi ci vediamo presto. Non mi resta di darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi. Riposatevi dormendo sonni tranquilli. Ma soprattutto, nerdate duro. Io sono il Poro Polpetta, Michele Diels. Ciao. Ehi, 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 fermo. Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion. Il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale. E in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto. Come retroscena, anteprime e anche live esclusive. Dove andremo insieme a caccia di retrogame. Ti lascio il link in descrizione. E ricordati che Poracci si diventa Oh mamma mia